Un onore affrontare un allenatore del calibro di Claudio Ranieri che è stato su tante panchine, ha vinto, ha dimostrato nell'arco della sua carriera di essere prima di tutto una bellissima persona e poi un grande allenatore. Per me è un onore domani stringergli la mano. Chi ha il suo primo anno da allenatore in B sta tenendo la squadra costantemente in zona playoff contro chi invece ha totalizzato quasi 1350 panchine tra i professionisti vincendo la Premier League e sfiorando lo scudetto in Italia. Bari Cagliari sarà anche Michele Mignani contro Claudio Ranieri. In palio tre punti pesanti in chiave promozione. I biancorossi arrivano al match del San Nicola a meno tre dal secondo posto e con quattro punti di vantaggio sui sardi in ripresa nella gestione Ranieri con 13 punti in sei gare. A prescindere dal risultato assicura Mignani. Tutte le settimane è un esame di maturità. È anche difficile stabilire il livello della difficoltà degli esami perché lo sapete questo è un campionato equilibrato e c'è solo un momento una squadra forse che sta facendo il vuoto che è un'altra partita bella perché affrontiamo una squadra che ha blasone, una squadra che l'anno scorso stava in Serie A, una squadra che ha giocatori forti con un allenatore di cui abbiamo parlato prima e quindi è una partita stimolante però noi abbiamo troppa necessità di continuare a fare punti. Contro i sardi non ci sarà Foloruncio ancora out ed escluso dalla lista dei convocati alla pari di Seterre Galano. Altra chance dal primo per botta sulla tre quarti. Non abbiamo ancora recuperato Mike Foloruncio che ancora non sta bene quindi non avrebbe senso buttarlo in campo ma per due motivi. Il primo perché andremo a peggiorare probabilmente la situazione. Non è una finale, non è l'ultima partita di campionato. Dobbiamo ragionare prima di tutto sulla salute del nostro giocatore. Abbiamo giocatori bravi nel palleggio, abbiamo giocatori come botta che quando decidono di far giocare la squadra si fanno trovare ed è questa la richiesta poi da parte dell'allenatore. Cioè è un giocatore che può fare ruoli offensivi e che io mi aspetto anche che determini in zona gol. Di fronte un Cagliari rimaneggiato out tra gli altri altare squalificato Nandez, Viola, De Iola e Pavoletti. Per Mignani il club sardo resta però tra le favorite per un posto sul podio. Malbari sta facendo il suo percorso. Credo che siano altre le squadre che a inizio campionato potessero presentarsi con l'obiettivo di vincere il campionato per una serie di motivi, per investimenti, perché magari qualcuno ha retrocesso dalla Serie A e quindi aveva l'obbligo di puntare a ritornarci. Tra queste c'è anche il Cagliari che io vedo come una squadra forte. Start alle 16.15 arbitra Davide Massa della sezione di Imperia Internazionale dal 2014 a 20 direzioni in stagione tra A e B.